Mi trovo qua vicino a un albero di mandorlo, il primo a fiorire in questo periodo, e mi ricorda l'ultimo viaggio che ho fatto in Israele, dove la guida ci raccontava che il mandorlo ha un significato molto profondo nella Bibbia, nel libro di Geremia, in ebraico shakad, che ci ricorda la fedeltà di Dio. Proprio come il mandorlo è fedele al suo ministerio, così Dio è fedele alla sua parola. Infatti nel libro di Geremia, il primo capitolo, il Signore dice a Geremia, Geremia cosa vedi? E lui dice, vedo un mandorlo. Come il mandorlo, gli ricorda Dio, è fedele al suo ministerio, io sono fedele nella mia parola, io insisto nella mia parola e non mi tiro indietro. Quindi ricordiamoci che il mandorlo sboccerà sempre nel giusto momento e Dio arriverà preciso e puntuale come il mandorlo con la sua parola.